C'è un paese che sa ancora provare meraviglia, che riconosce la bellezza nascosta e difende quella dimenticata, che accoglie gli sconfitti con gli onori di un vincitore e offre a chi ha perso tutto una nuova, fragile e coraggiosa possibilità. Ci entri una volta e ne sei parte per sempre. È l'Italia dell'otto per mille alla Chiesa Cattolica. È il paese dei progetti realizzati. È il paese dei progetti realizzati.